Buongiorno cari cancro, benvenuti alla vostra lettura, giriamo subito le carte delle energie generali e poi passiamo all'amore. Ne sono cadute quattro di queste, ma va benissimo, conoscenza profonda, anima gemelle, secondo le regole, casa dolce casa, parole, accordo. Ok, eh beh, sì, va bene, va bene fare degli accordi e va bene parlare, ma io consiglierei anche di guardare dove camminiamo, di guardare dove mettiamo i piedi, perché siamo un po' troppo scialle, cioè siamo un po' troppo così, andiamo senza vedere dove stiamo andando, rischiamo di cadere. Va bene la spontaneità, ragazzi, cancro, ok, va bene la spontaneità in questo momento, però io direi anche di... No, non dico di riflettere, perché ci stiamo un po' comportando da bambini, in effetti c'è molta immaturità in questo momento e c'è anche forse un bisogno di chiudersi nuovamente un po' in se stessi e di ritrovarsi, però poi alla fine non è quello che faremo, non è quello che farete, in realtà quello che farete sarà mentre andate verso voi stessi e cercate di chiudervi dentro voi stessi andrete fuori, andrete a fare cose in una maniera talmente spensierata e talmente priva di strategie che sarà veramente una cosa molto spontanea e molto naturale. Allora, cari cancro, questo è un momento davvero in cui sta venendo fuori un po' il nostro vostro lato bambino, parlo di nostro perché in fondo nel tema natale anch'io ho qualcosa in cancro, tipo la luna per esempio, no scusate, di tipo venere, io ho venere in cancro, pericolosissima venere in cancro, una grande rottura di balle, ma ecco quindi comunque ciascuno di noi ha un po' di tutti i segni, quindi in realtà dovremmo un po' guardarli tutti in base al nostro tema natale e quello che si vede è che questo sarebbe un momento in cui ci farebbe tanto tanto bene ritornare un po' alle origini, ritornare un po' in noi stessi, ritornare a sentire quell'abbraccio materno, quella sensazione di calore, di sicurezza ed è questo quello di cui realmente avremo bisogno, ma mentre andiamo verso questo, cioè mentre la nostra anima ci spinge verso questo, noi facciamo tutt'altro poi alla fine, finiamo per fare tutt'altro. Allora, io devo dire che questa parte della stesa si riferisce ovviamente a qualsiasi cosa noi stiamo vivendo in questo momento, ma per molti di voi comunque già inizia a parlare di amore, perché inizia a parlare comunque di relazioni, saprete voi comunque di che tipo di relazioni stiamo parlando? Stiamo parlando di anime gemelle, che non vuol dire necessariamente lui, lei, amore, baci, no, anime gemelle inteso come anime con le quali in un certo grado, più o meno forte, c'è un legame di tipo karmico, cioè un legame che va avanti da esistenze precedenti. Anime che già conosciamo, che abbiamo rincontrato e con le quali vita dopo vita ci scambiamo i ruoli per fare esperienze. Ora, in questo caso noi stiamo avendo a che fare, in effetti, in qualche ambito della nostra vita, stiamo avendo a che fare con una o più anime che possiamo definire gemelle, una in particolare, e con una di queste persone dobbiamo parlare, dovrà esserci, se non c'è già stato in questo momento, in questi giorni, dovrà esserci un accordo, una presa di posizione, un mettersi d'accordo e trovare appunto una situazione che vada bene per tutti. Sarà un dialogo fatto appunto a parole, ci sarà una conversazione, ci sarà da discutere, ma alla fine si riuscirà a trovare questo accordo, assolutamente sì. Si troverà perché? Perché entrambi dovranno un po' seguire delle regole e questa cosa sarà possibile perché comunque il grado di conoscenza fra noi e questa persona o fra noi e queste persone ci permette in effetti di farlo. È come dire, sì, io conosco, lo conosco, la conosco, li conosco, quindi so che se decidiamo comunque di seguire determinate regole lo facciamo e tutto questo per mantenere quella sorta di questo bisogno di casa. Qui c'è proprio un bisogno di casa, c'è un bisogno di sentirsi al sicuro, di sentirsi protetti, c'è un bisogno di serenità. Il cancro sta affrontando un momento in cui ha bisogno di serenità e questa serenità può proprio arrivare da questo accordo con una persona, da queste parole, da questo mettersi d'accordo e trovare soluzioni insieme. Adesso però passiamo all'amore, passiamo a vedere cosa sta accadendo nell'ambito delle relazioni sentimentali o delle relazioni in generale, se non avete un partner e non state frequentando nessuno. Vedete qui, per esempio, ci troviamo in un momento in cui il nostro lavoro o il lavoro dell'altra persona in qualche modo sta interferendo nella nostra vita privata. Per fortuna il sentimento c'è ed è un sentimento anche abbastanza forte, abbastanza importante. non è ben definito sotto certi aspetti, ma comunque c'è ed è un sentimento vero, reale, sul quale si può costruire, dal quale possono nascere varie cose e quindi può aprirsi un futuro che può andare in varie direzioni. Il lavoro, le finanze, la condizione economica, il tempo a disposizione e tutto questo per molti di voi sta interferendo nell'ambito della relazione, ma è solo una questione comunque di adattamento e di riequilibrio, cioè dovete comunque innanzitutto imparare a conoscere certe parti di voi. Se state insieme da poco o se vi state solo frequentando è ovvio, dovete imparare a conoscervi per capirvi, per capire quali sono le motivazioni che spingono l'altro a essere in un certo modo o ad agire in un certo modo o a comportarsi in un certo modo. Se invece state già insieme da un po' e quindi siete una coppia che già si conosce, ebbene in realtà non si finisce mai di imparare, non si finisce mai di conoscere davvero sfumature e dettagli dell'altra persona e in effetti è qualcosa che va fatto in questo momento. Uno dei due, ma tra l'altro potrebbero anche esserci questioni legate a figli, bambini, gravidanze, fertilità, potrebbero esserci questioni per qualcuno di voi legate all'ambito della sfera dei bambini, della procreazione. Ecco, qualcuno di voi si sta occupando di questo. Magari qualcuno vuole un figlio e deve aspettare che le condizioni siano pronte per avere un figlio, perché magari non tutti e due siete pronti, non tutti e due ve la sentite nello stesso modo, oppure la presenza di figli sta condizionando in qualche modo la relazione, magari potrebbero anche essere figli fatti con altri, non è detto che siano figli del vostro rapporto, cioè ovviamente queste sono cose che possono cambiare da persona a persona. Però ecco, se state pensando per esempio di avere un figlio, c'è bisogno di un po' di tempo, perché è chiaro che non è il momento, è chiaro che manca qualcosa e non siete pronti e soprattutto non aspettatevi troppo, non idealizzate la situazione nella quale vi trovate, le cose vanno fatte quando davvero è il momento giusto per farle, le cose vanno fatte quando si sente che è il momento e si sente che entrambi si è pronti, si sente che siete la coppia giusta per fare quello, ma di qualunque cosa stiamo parlando, figli o altro, uno dei due comunque per concretizzare un po' le cose o per soddisfare i bisogni e le esigenze dell'altro ha bisogno di tempo. Ed ecco che bisogna proprio per questo motivo stare attenti a non idealizzare, a non andare troppo avanti con l'immaginazione, perché quando l'universo ci mette di fronte il bisogno di aspettare, di solito è perché vuole darci il tempo per capire e per vedere certe cose che non stiamo vedendo, quindi non idealizziamo, guardiamo, osserviamo, prima vediamo le cose per come sono, prima l'universo non avrà più bisogno di metterci dei blocchi o rallentarci, quindi se vogliamo accelerare i processi, dobbiamo noi stessi accelerare la nostra capacità di comprendere cosa stiamo facendo, con chi abbiamo a che fare. Dall'altra parte abbiamo una persona che non ha un'estrema fiducia nell'altro, cioè qualcuno di voi due qui ha un po' paura, ha un po' paura, ha problemi di fiducia, ha paura di essere magari usato o usata, ha paura e non sa se l'altra persona riuscirà a dire la verità, sì, c'è un po' di reticenza da questo lato e tra l'altro da questo lato in effetti ci sono delle cose da scoprire, ci sono delle cose da vedere, è vero, bisogna imparare a conoscersi e soprattutto per quelli di voi che stanno iniziando qualcosa da poco, ci sono in effetti delle cose che vanno viste, cose che ancora non sono chiare e uno dei due sta per scoprire in effetti delle cose abbastanza importanti, cose che possono comunque cambiare il punto di vista e cambiare la prospettiva, quindi prima di farvi i film e di pensare a costruire un castello mettete le basi, create le fondamenta per una relazione sana ed equilibrata che possa in effetti dare i suoi frutti. Qui stiamo un attimino correndo un po' troppo, ci sono delle cose che devono maturare, cose che devono essere scoperte, viste, persone che devono davvero conoscersi o conoscere le loro reali intenzioni, i loro reali bisogni, ciò che realmente le spinge ad agire, ad essere in un certo modo. Sì, la verità esce, assolutamente, la verità uscirà, sta per uscire, non è quello il problema e soprattutto non sarà un problema, però datevi tempo, datevi in effetti il tempo che serve. Prendiamo adesso le altre carte, aggiungiamo qualcosa, tra l'altro avrei dovuto prenderle prima e l'ho dimenticato, ma va bene, torre, ecco infatti, avrei dovuto prenderle prima perché danno sempre degli indizi importanti, torre, giudizio, wow, tre arcani maggiori, e sì, il cancro sta affrontando un momento importante, sicuramente importante, voi o l'altra persona state vivendo delle emozioni molto forti, molto intense, uno dei due viene richiamato a essere o a fare qualcosa, mentre l'altro invece, mentre l'altro invece deve concentrarsi sulla gestione delle emozioni perché altrimenti rischia davvero di viverla in maniera troppo forte, troppo espansa, troppo dinamica, ci sono emozioni forti qui, come energia generale abbiamo l'imperatrice, quindi comunque sia qui c'è una situazione in cui entrambi siete in grado di prendervi cura l'uno dell'altro e questa è sicuramente una cosa bellissima e importantissima, ma al di là di quello il momento che state attraversando è sicuramente delicato, perlomeno lo è per uno dei due, che ha bisogno appunto di tempo, che sta forse sbagliando nell'idealizzare troppo e nell'andare troppo avanti, dovrebbe affrontare le cose un passo alla volta, l'altro invece viene un po' richiamato, l'altro viene un po' richiamato, ma vediamo le energie generali, o meglio vediamo il consiglio finale che le carte hanno da darci, ovviamente ragazzi potete prenotare una sessione con me sia dal sito internet sia mandando un whatsapp, vi dico però subito che dal sito internet si può prenotare tutto tranne la lettura di tarocchi da 50 euro, quindi in questi due casi dovete scrivermi 10 di spade e regina di bastoni. Allora, questo è un consiglio che avremmo potuto anche aspettarci in effetti, perché mette molto a bada i sentimenti più forti e le emozioni più turbolente, il 10 di spade è uno smettere di soffrire, è uno smettere di pensarci e quindi è proprio un invito a smettere di pensarci, a smettere di preoccuparti per le cose ed è un invito soprattutto a focalizzarvi sull'energia della regina di bastoni. Ci starebbe qui una bella meditazione sulla carta della regina di bastoni per assorbirne l'energia, per canalizzare l'archetipo di persona forte ma sensibile, sicura di sé ma delicata. Questo dovete essere in questo momento, forti ma sensibili, sicuri di voi ma delicati e dovete smetterla di preoccuparvi di determinate cose perché non vi porta a nulla e perché comunque vi abbassa la vibrazione, vi dà insicurezza, vi imbruttisce. Invece la regina di bastoni è pure figa, quindi se voi riuscite a rilassarvi diventate pure più belli e più belle e in ogni caso la regina di bastoni sa sempre cosa fare, non è mai un problema il prendere decisioni e agire al momento giusto. Ricordate anche ragazzi che potete andare a guardare, dovete andare a guardare le letture del vostro segno ascendente e del vostro segno di luna perché anche lì troverete dettagli importanti che qui mancano e chi ha bisogno può contattarmi privatamente per fare una chiacchierata one to one e per il resto ci vediamo alla prossima e ciao!